questa piccola immagine sacra chiamata la madonna dei garofani fu realizzata per la semplice contemplazione religiosa di un privato committente il suo proprietario originale infatti avrebbe potuto anche tenerla comodamente in mano per rivolgervi una preghiera l'opera ci mostra la madonna e il bambino seduti in una camera da letto con alle spalle una finestra che si apre su di un paesaggio inondato dal sole madre e figlio si stanno scambiando teneramente dei fiori rossi di garofano simbolo del sangue versato da cristo per il genere umano ma anche del suo matrimonio con la chiesa la madonna qui non è solo la madre di gesù ma anche la sposa di cristo raffaello trasforma questo momento di intimità familiare in qualcosa di completamente nuovo madre e figlio non sono seduti in maniera rigida e formale come spesso accadeva nei dipinti di artisti precedenti ma ora vediamo tutte le naturali espressioni d'affetto che ci si potrebbe aspettare tra una giovane madre e il suo bambino è molto probabile che questo dipinto sia liberamente ispirato a un'opera di leonardo da vinci la madonna benoit conservata all'ermitage di san pietroburgo in russia raffaello dipinse il quadro poco prima di partire per roma ma se ne persero le tracce e per molti anni lo si ritenne solo una copia si dovete aspettare il 1992 per avere un'attribuzione certa a raffaello distinguendo così l'opera dalle numerose copie che erano state fatte nel corso della storia attente analisi scientifiche condotte con la tecnica dell'infrarosso che permette di vedere sotto la superficie fecero la differenza si scoprì il disegno sottostante e tutte le caratteristiche dello stile di raffaello le piccole curve usate dall'artista per disegnare le nocche delle mani i segni a uncino per indicare le pieghe delle vesti il tratteggio per le zone d'ombra nonché l'utilizzo di una punta metallica strumento impiegato spesso dal pittore inoltre è stato individuato un ripensamento nel vestito della madonna che non è presente nelle copie molto probabilmente raffaello lavorò a mano libera ed è quindi normale che in corso d'opera cambiasse idea su come realizzare alcuni dettagli una volta attribuito con certezza il dipinto fu acquistato dalla national gallery solo nel 2004 grazie a una raccolta fondi che coinvolse diversi sponsor privati e l'intervento diretto dei supporter del museo che potevano donare qualsiasi somma se il video ti è piaciuto metti un bel like lasciami un commento condividilo con i tuoi amici ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video ciao